riesce ad andare via contestato il tiro in diagonale del numero 17 del testaccio il raddoppio ad approfittare dell'errore difensivo dei ragazzi della mocha fransky il 3 a 2 di nuovo in vantaggio il testaccio partita piena di gol maglie strettissime per il testaccio calciotto bellissima l'imbucata in avanti e ancora due gol in due minuti per il giuliani il 4 a 2 del testaccio calciotto che non perde un pallone li regumerà sulla tre quarti va in porta il quarto gol delle maglie nere lunghissimo più che può appali attenzione perché il contrasto è regolare allora il tiro in diagonale a portiere battuto la tripletta di van giuliani vediamo se il gol è regolare perché c'è stata qualche contestazione regolare anche questo allora la tripletta in 5 minuti 3 gol del numero 17 del testaccio 5 a 2 attenzione perché il pallone è finito addosso a giuliani praticamente un rigore a porta vuota regalato a giuliani che ha toccato invece per mancinelli che si è fatto recuperare assurdo qui per il testaccio grazie 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 grazie